Quella che vedete dietro di me è una Peugeot 508 Session Wagon, ma non una 508 qualsiasi perché lei è la PSE, sigla che significa Peugeot Sport Engineered, un nuovo marchio tutto sportivo che unisce la comodità di una wagon alla tradizione sportiva dell'azienda francese e rende di fatto lei la capobranco di tutti i leoni della gamma. 360 cavalli dati da un motore termico 1.6 benzina da 200 unito a ben due motori elettrici, uno da 110 cavalli e uno da 113 montati per assale e ben 520 Nm di coppia massima. Lei è di fatto la Peugeot più potente mai prodotta e visti i tempi non poteva che essere ibrida. La meccanica è la stessa della 508 Hybrid da 224 cavalli a trazione anteriore ma ovviamente su questa vera e propria supercar la dinamica di guida cambia totalmente. Potente, precisa, aggressiva nella partenza proprio grazie alla coppia enorme. La 508 PSE si divide tra un'anima silenziosa adatta dall'unità elettrica che garantisce 42 km di percorrenza solo a batteria, un po' come una neonessa che si avvicina, che non si fa sentire prima di attaccare e un rombo del motore davvero piacevole dato dal 1.6. Questo tra l'altro si unisce a un cambio inevitabilmente automatico, 8 rapporti, rapito quanto lei nelle cambiate che sono molto fluide. Tre motori del resto sono tanti e complici alla forma filante dell'ultima 508 garantiscono un'accelerazione, una velocità, un divertimento alla guida che si ritrova su poche station wagon. I cavalli, come detto, sono 360 ma solo la modalità sport li sfrutta tutti, mentre l'Eco e la normal, diciamo, depotenziano tra miliardi di virgolette la vettura portandola a 330. Insomma, rimane un'auto molto potente e la sensazione è quella che sia comunque leggerissima e questo nonostante i due motori in più rispetto a una supercar endotermica e nonostante il pacco batterie. Leggera e maneggevole e questo è merito del sempre ottimo volante piccolo del leone che aumenta la sensazione di sportività. L'estetica è ovviamente quella della 508 che è già molto aggressiva di suo, ma la Peugeot 508 Station Wagon PSE, così come la berlina, si distingue per la caratterizzazione sportiva, a partire dall'anteriore con la mascherina inedita e le prese d'aria del paraurti inferiore poste all'estremità laterale e caratterizzate in giallo fluo. Di profilo invece lei si distingue per i minigonne ribassati dotati di deviatori di flusso, mentre il posteriore è caratterizzato dal diffusore posto tra i due tubi di scarico e anch'esso caratterizzato da dettagli in giallo fluo. Dettagli in giallo fluo che poi vanno a distinguere le tre barrette del logo Peugeot Sport e Ingenery cambia anche l'assetto, lei è infatti più bassa della 508 tradizionale e ha carreggiate più larghe, sia all'anteriore che al posteriore. Grazie al tipico design Peugeot caratterizzato dall'ormai iconico artiglio LED anteriore, la 508 si fa ancora più aggressiva, sempre però nella direzione Peugeot verso la sostenibilità. Non è un caso infatti che la vettura più potente della gamma sia anche ibrida perché Peugeot vuole rielaborare i concetti di prestazioni e potenza all'insegna delle basse emissioni. Lei infatti ha una media dichiarata di 49 km con un litro e di 46 grammi di CO2 al chilometro che è un ottimo record considerando i suoi 360 cavalli di potenza. Lo stesso giallo fluo si ritrova anche nell'abitacolo, per esempio nelle impunture dei sedili che hanno un rivestimento in alcantara e pelle. Sedili che sono sportivi avvolgenti ma non scomodi all'insegna di un'auto che per quanto sportiva rimane pensata per viaggi lunghi e importanti. Per il resto l'abitacolo rimane in linea con quello della 508 standard e quindi con la sua impostazione a più livelli. Parte alta per ai cockpit e bocchette dell'aria, parte centrale con volante display taceo da 10 pollici, parte inferiore con il grosso tunnel centrale ricco di vani portaoggetto e comprendente la leva del cambio automatico. Potente ma versatile. Quattro adulti infatti ci viaggiano molto bene perché la seduta è molto comoda anche dietro e anche in cinque a patto che di statura non troppo elevata. Ottimo anche il bagagliaio perché si parte da 530 litri di capacità che salgono a 1780 abbattendo tutti i sedili posteriori. Cinque sono le modalità di guida concesse dalla Peugeot 508 PSE, elettriche che come dice il nome permette di viaggiare elettrico fino a 140 km orari, comfort che rende l'assetto più dolce, hybrid che unisce i tre motori in simbiosi, sport che come detto sfrutta tutte le prestazioni e 4x4 che sempre come dice il nome mantiene la trazione integrale permanente. Il driver quindi ha davvero un'enorme possibilità di scelta che rende la 508 particolarmente versatile. Comfort, hybrid ed elettri che sono tre modalità adatte al quotidiano, alla città o all'extraurbano a seconda delle necessità, mentre sport e 4x4 sono due modalità pensate per il tempo libero perché questo si chiede a una station wagon anche sportiva di portare divertimento senza rinunciare alla comodità. La Peugeot 508 Session Wagon PSE è un'auto premium e sportiva pensata per chi si vuole discostare dalla norma. Una supercar pulita grazie ai suoi tre motori di cui due elettrici è votata sia alla sportività che al comfort grazie anche alle sospensioni che sono intelligenti e adattive. Lei parte da circa 70.000 euro e ha già tutto di serio perché è ok essere di fascia alta ma si vuole essere anche competitivi.